Ciao a tutti, sono la dottoressa Emilia Fregiola, biologa nutrizionista. Da alcuni mesi collaboro con il blog Zin Rosmarino News e mensilmente proponiamo alcune mie ricette sane e semplici da preparare, pubblicandone sui nostri canali social. Da oggi abbiamo deciso di pubblicare anche alcuni brevi video in cui risponderò ad alcune domande per soddisfare qualche curiosità e sfatare dei falsi miti relativi al mondo dell'alimentazione.